Sono padre Giovanni Peragine, presidente dell'Ucesma e in questo convegno qui a Sarajevo dedicato alla riflessione sulle opere di misericordia, ecco porto la mia testimonianza proprio su circa 300.000 religiosi che operano in Europa. L'Ucesma è la conferenza europea dei superiori maggiori, rappresenta circa 27 paesi dell'Europa. Ecco, i religiosi in Europa ogni giorno sono chiamati a esprimere, a vivere, a testimoniare le opere di misericordia proprio incarnando nella vita di ogni giorno i carismi che i diversi fondatori hanno in qualche modo ispirato le congregazioni. Le opere di misericordia dei religiosi in Europa variano su diversi aspetti, diversi settori, l'assistenza ai malati, l'educazione della gioventù, l'accoglienza dei bambini, l'accoglienza degli orfani. In tutti questi settori, in tutti questi ambienti, ogni giorno, e non soltanto in determinati momenti della loro vita, della loro giornata, ma realmente ogni giorno loro sono impegnati a testimoniare queste opere.